Sempre per la cronaca restiamo all'Aquila dove beni per 115.000 euro per somme ricevute indebitamente da alcuni tesserati di un'associazione sportiva dilettantistica sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza dell'Aquila che ha scoperto una truffa sui fondi Covid. I collaboratori sportivi hanno tenuto con la compiacenza del Presidente e del Segretario Amministrativo dell'ASD allegando nella domanda accordi di rimborso spese predatati e posticci. Il gruppo della Guardia di Finanza diretto dal Tenente Colonnello Luca Lauro ha recuperato le somme di denaro percepite indebitamente che erano state largite dello Stato in uno dei momenti di maggior difficoltà attraversati dal Paese. In particolare due dirigenti dell'associazione sportiva avevano ideato e predisposto gli accordi di rimborso spese retrodatati contattando ogni singolo giocatore attraverso la piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp facendosi mandare la foto delle firme che successivamente avevano scansionato e riportato sugli accordi allegati alle domande presentate facendo ottenere tesserati, molte di quali all'epoca dei fatto minorenni indennità non dovute per gli anni 2019-2020-2021. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila ha disposto nei confronti dei dirigenti dell'ASD il sequestro della somma indebitamente ottenuta.